Siamo qui al Cotma di Rosciano, oggi dalle 8 di stamattina è ripartita la vaccinazione per gli over 80 anni, partita nella giornata di sabato, quindi una giornata importante, tante persone naturalmente sono tutte cadenzate con gli orari dopo che si sono prenotate nel sito dove ci si doveva registrare per poter accedere a questa importante fase di lotta contro il virus. Questa è la sala dove avvengono sia le diluizioni che anche le iniezioni, quelli in fondo sono i box dove appunto i pazienti entrano per l'iniezione. Un po' che è stata inoculata la dose di vaccino, poi c'è un periodo di osservazione di qualche minuto qui in questa sala che adesso vi faccio vedere, è quella qua, è la sala dell'aula della protezione civile, come vedete le persone sempre assistite da personale infermieristico attendono appunto che non si creino reazioni allergiche, dopodiché possono tornare alle loro abitazioni. Come vedete il flusso di auto è molto regolare e sono le 11 di mattina passate, laggiù in fondo c'è appunto l'ingresso della sala, la media di vaccinazioni è una trentina all'ora, quindi nella giornata di ieri e anche questa mattina sono previste circa 400 inoculazioni.